Allora, siccome sono appena tornato da Spagna e mi sono trovato in macchina qualche giorno fa... Ma non si sono avvisso qui? Sì, io sono international. No, no, è la politica. Ma mi sono trovato vicino alle città di Segovia e mi sono ricordato un'egitta che ci ho fatto. E la sera che sono rientrato nella città insieme ad un nemico abbiamo fatto questa canzone che era praticamente sia per lui sul pianoporte elettrico che per me sulla voce è chiusa in qualsiasi. Quindi lui mi ha mandato la registrazione del pianoporte. Quindi possiamo avere un po' di volume? Quindi è il pezzo che si intitola Segovia. Sì, io sono un po' di volume. 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 E io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. E io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Io sono un po' di volume. Sì, io sono un po' di volume. Grazie.